Musica Allora ringrazio tutti i colleghi che hanno esposto il loro intervento in questa seconda parte e per le conclusioni lascio la parola al professor Cecchini. Volevo soltanto ricordare che per chi avesse richiesto in qualsiasi forma dei crediti o per l'aggiornamento professionale o quant'altro c'è la necessità di compilare il questionario che potete scaricare inquadrando questo codice col vostro smartphone. Se qualcuno in aula non avesse la possibilità di farlo ci stanno anche quelli cartacei. Non è necessario che lo facciate immediatamente ma intanto prendetevi l'indirizzo in modo tale che entro domani insomma o un paio di giorni al massimo potete aver compilato questo questionario e noi potremmo quindi rilasciare tutti i vari attestati o crediti richiesti. Bene, per le conclusioni lascio la parola al professor Monarca e al dottor Quercia. Due parole perché siamo tutti stanchi, la giornata è stata molto lunga ma anche particolarmente intensa da quello che ho visto. Il tema della sicurezza ci avvince così tanto che ci fa stare qui fino alle 5 passate. Oggi abbiamo visto tante bellissime cose e soprattutto di quello che possono essere gli apporti che le nuove tecnologie digitali possono dare alla sicurezza. Oggi pomeriggio in particolare ma anche le altre cose che abbiamo visto stamattina. Noi stiamo facendo molta ricerca su questo e chi volesse collaborare dei presenti può rivolgersi tranquillamente a Massimo Cecchini e a me perché con un gruppo di ragazzi che sono qui presenti parlo del professor Pierluigi Rossi, di Macor, di Assettati e altri stiamo creando un pool di giovanissimi che oltretutto essendo millennials non hanno bisogno di leggersi i libretti delle istruzioni diversamente da me partono che già sanno come funziona il tutto e con loro contiamo di far crescere sempre di più il laboratorio Ergolab. Ma le parole e le conclusioni le lascio all'Augusto che non è l'ultimo safety day ma sarà il... Grazie, grazie Danilo. Brevissime riflessioni. La giornata è stata molto densa a me sembra che ci siano due fili conduttori della giornata il primo soprattutto ma no direi che riguarda tutta la giornata non solo la mattina ma è il fatto che nella nostra provincia abbiamo, stiamo ormai, ci siamo posizionati su un livello di coinvolgimento e di collaborazione di tutto il sistema pubblico. Oggi mi è sembrata la dimostrazione palese l'intervento di tutti gli enti e le istituzioni la presenza del prefetto ecco questo a mio avviso è un elemento importantissimo perché gradualmente dovrebbe portarci ad una posizione culturale diciamo di non accettazione sociale della mancata sicurezza della mancata tutela della salute sul lavoro. Mi sembra una conquista importante di sistema un altro elemento che aggiungo a questa prima riflessione è che siamo in una situazione di privilegio secondo me qui nella provincia di Viterbo sia perché c'è questa collaborazione condivisione, buona disposizione fra i rappresentanti di tutti gli enti pubblici ma c'è la presenza dell'università che è un motore di cultura di conoscenze di stimolo all'innovazione quindi ci pone secondo me da questo punto di vista in una posizione di vantaggio rispetto ad altre province della regione. Il secondo aspetto è immerso e tutti l'hanno evidenziato è l'impatto delle nuove tecnologie su questo io sono veramente ormai datato quindi mi sento di non poter entrare nell'argomento ma è evidente che con questo aspetto dovremo, dovrete confrontarvi e addentrarvi nell'utilizzo di queste tecnologie per migliorare le condizioni di tutela le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. non aggiungo altro sono veramente grato ai colleghi dell'università per il pensiero che hanno avuto e che veramente è stato toccante per me grazie. Te lo meriti tutto per tutto quello che hai fatto e soprattutto per quello che farai che sarà molto di più di tutto quello che hai fatto fino adesso. Vado gusto un ringraziamento di tutti e concluderei proprio facendo un applauso al dottor Quercia così diventa ancora più rosso e un appuntamento fra un anno in occasione come al solito della settimana mondiale della sicurezza qui con il Safety Day. Un ringraziamento fatemelo dire a tutto il gruppo Massimo qui ha un elenco lunghissimo ma a Massimo Cecchini che è stato il motore e l'anima perché io da direttore del dipartimento sinceramente non c'è più neanche un minuto di tempo per dedicare a quello che mi piace di più mi dedico un po' alle amenities. Buona serata a tutti allora. Grazie. 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 Grazie.